Raffaele Panichella, 53 anni, è il candidato sindaco di Montesilvano per il Movimento 5 Stelle nelle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. L'ufficializzazione è arrivata questa mattina a Palazzo di Città, nel corso della conferenza stampa con il deputato Andrea Colletti, il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, il capogruppo uscente del Movimento 5 Stelle Montesilvano, Cristian Di Carlo, e il candidato sindaco Movimento 5 Stelle di Pescara, Erika Alessandrini. De origini molisane, ma residente a Pescara, Raffaele Panichella è architetto, dipendente delle agenzie del territorio e attivista del Movimento 5 Stelle da oltre 10 anni. I temi da mettere sul piatto sono veramente tanti, tra questi sicuramente al primo posto direi la qualità della vita, quindi restituire ai cittadini di Montesilvano una qualità della vita che sia degna delle loro aspettative. Io penso che anche semplicemente buttando l'occhio fuori da queste finestre si percepisce come questa città sia diventata fondamentalmente nel tempo una città quasi dormitorio, sembra più di osservare la periferia di una grande città che è un vero e proprio comune. Abbiamo dimostrato che c'è un modo diverso di fare politica, quindi di affrontare le situazioni da punti di vista differenti e quindi confidiamo nel fatto che i cittadini si rendano conto che noi siamo dei cittadini come loro che hanno semplicemente a cuore il bene della comunità in cui viviamo. La lista è pronta, abbiamo anche questa bella novità di una lista in cui il 50% è composto da candidati donne, quindi siamo veramente equamente suddivisi e questo ci fa ben sperare perché comunque l'apporto del modo diverso di pensare anche dell'altro sesso spesso è determinante.